GEMELLAGIO DELLA CULTURA Il compito di chiarire il significato dell'avvenimento È un avvenimento importante per noi perché lanciare questa pubblicazione in Francia Rappresenta certo un traguardo date le grandi tradizioni culturali e artistiche della Francia Soprattutto se consideriamo che la nostra consorella che ha accettato di operare con noi è a Chet L'Indomani Chedeve de L'Art è in tutte le edicole Lo si trova anche dai Buchinist sulle rive della Senna Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!